Ma è un momento difficile per il Paese perché non si intravede una via d'uscita quella che è una situazione ormai che porta l'inflazione alle stelle che tra l'altro incide molto sullo reddito delle famiglie i rincari delle bollette continuano a essere un peso per tante famiglie nonostante sia una fase in una transizione energetica dove i governi avrebbero dovuto fare delle attività propedeutiche per arrivare a un piano anche energetico che non c'è nel nostro Paese che poteva dare anche più sostenibilità a quello che è il tema del rincaro quindi noi in questo momento abbiamo una piattaforma che porteremo avanti il 7 ottobre con una grande manifestazione nazionale che parte proprio dai temi della povertà, del salario e dalla inflazione, noi abbiamo questo tema dell'inflazione che ormai porta i salari e le pensioni ad avere un potere d'acquisto ormai che non regge più dal punto di vista economico quindi bisogna che il governo intervenga con misure strutturali e non solo con i bonus il tema del cuneo fiscale non può fermarsi a dicembre e noi abbiamo detto anche che bisogna fare un piano contro la povertà alla luce anche di quello che sta avvenendo con la reddito di cittadinanza che non c'è più in Calabria saranno oltre 100.000 le persone beneficiari in via indotta anche della reddito di cittadinanza per le quali non si intravede una strada anche da un punto di vista occupazionale non sta funzionando il sistema per l'impiego che dovevano sostenere queste fasce di marginalità e precarietà non si sta facendo nulla sugli investimenti anche da un punto di vista energetico per parlare proprio di energia noi abbiamo assistito in questi giorni a una spoliazione delle questioni energetiche il governo regionale chiude la centrale a biomasse del Mercore che è l'unica sostenibile dal punto di vista ambientale Enel dismette il piano che aveva fatto sull'idrogeno a Rossano senza motivazione noi che dovremmo essere quell'hab energetico a livello regionale di fatto stiamo avendo uno smantellamento anche degli investimenti del riglassificatore di Giorgiataro non se ne parli hanno messo questa tassa europea che mette a rischio anche la funzionalità del porto di Giorgiataro ci sono tutte le condizioni per cui il sud si attivi anche con una mobilitazione permanente rispetto a quella che è la situazione perché veramente le politiche di questo governo stanno cancellando il sud anche sugli interventi non ci sono piani di investimento né nel settore energetico né nel settore industriale il turismo fa fatica, abbiamo dei dati allarmanti sul lavoro nero e sulla sicurezza sul lavoro ieri abbiamo fatto una manifestazione in prefettura di Catanzaro abbiamo detto al prefetto e lo diremo anche alle procure di intervenire immediatamente perché nel sud e in Calabria c'è molto lavoro nero e molto sfruttamento e le imprese non assumono nemmeno la responsabilità di mettere in sicurezza i lavoratori quindi ci sono tanti i temi per che la Calabria e il Mezzogiorno manifesti il 7 di ottobre per non parlare di quello che potrebbe essere il tema dell'autonomia differenziato e noi tant'è vero che abbiamo dal sud posto un grido d'allarme su quella che è la lotta alla povertà e la lotta per carità, noi il salario minimo serve come il pane in una regione dove non ci sono applicazioni dei livelli contrattuali dove i giovani guadagnano 5-600 euro al mese perché vengono abusati e sfruttati da un punto di vista lavorativo e per noi il salario minimo è un punto di partenza tutte queste cose ci metteranno nelle condizioni di andare ad una mobilitazione nazionale il 7 ma poi molto probabilmente faremo una mobilitazione regionale perché anche i temi dell'avvertenza Calabria purtroppo sono stati disattesi perché se noi parliamo di infrastrutture, parliamo di 106, parliamo di alta velocità parliamo di ferrovia ionica e il governo risponde col ponte sullo stretto evidentemente non ha capito quelli che sono i bisogni della Calabria è una contraddizione, noi paghiamo, diciamo abbiamo deturpato il nostro sistema ambientale perché anche il tema dell'eolico dovrebbe essere governato in maniera diversa noi abbiamo la possibilità, quando dico abbe energetico, di fare più interventi abbiamo il fotovoltaico, abbiamo l'eolico che dovrebbe essere in qualche modo comunque gestito abbiamo il tema che purtroppo è stato dismesso perché noi pensavamo che la centrale Enel di Rossano si poteva convertire ad idrogeno come era il progetto originario di Enel e anche lì c'è stata praticamente una disattesa di quelli che sono gli impegni da questo punto di vista il governo regionale se vuole fare seriamente chieda al governo di attivare un tavolo con la partecipazione pubblica con Enel, con Snam e con tutti gli altri enti e partecipazioni pubbliche che fanno investimenti sull'energia per capire che piano energetico nazionale si può fare come Sud sta all'interno di questo piano energetico considerato che la Calabria è un abbe energetico per vocazione naturale quindi produce più energie di quello che consuma quindi dal punto di vista di quella che è la cosiddetta autonomia differenziata noi forse in questo caso dovremmo avere qualcosa invece che dare Sì, siamo nel pieno della transizione, delle transizioni energetiche, ecologiche e ambientali e quindi oggi noi come Filtem, CGL Calabria vogliamo discutere del ruolo essenziale e strategico che hanno le reti in questo contesto la pandemia ha fatto sì che tutti si accorgessero dell'importanza delle reti e dei servizi che possono offrire e quindi noi siamo convinti del ruolo strategico e vogliamo dare importanza alle reti in Calabria abbiamo finalmente la possibilità di invertire un paradigma che ci vedeva privi di infrastrutture, oggi queste infrastrutture ci sono abbiamo la possibilità di produrre energia green da più fonti rinnovabili e quindi ci proponiamo come una regione protagonista per la transizione energetica, digitale e ambientale in modo che il governo regionale prenda possesso di questa possibilità che è la Calabria perché noi ci candidiamo, ripeto, a essere una regione che può dare il contributo per tutto il paese e quindi vorremmo che anche la politica locale e nazionale perché purtroppo abbiamo assistito a delle fughe importanti dei partner, delle grosse aziende nazionali dal territorio calabrese abbiamo visto l'ultima fuga purtroppo dal territorio di Grossano dove era prevista la riconversione a idrogeno della ex centrale a carbone quindi con un impatto occupazionale importantissimo purtroppo quel progetto ormai che era andato in porto ha visto la fuga di Enel e per noi questa cosa è incomprensibile e vorremmo che tutta la politica regionale si occupi di questa materia perché è materia di rilancio occupazionale per un territorio e per l'intera Calabria Le trattative col governo sono relative nel senso che il governo ci convoca ma nei fatti non veniamo mai a capo di nulla rispetto a quella che è la situazione il tema è che in questo paese rispetto al settore elettrico e gas acqua c'è l'esigenza di avere una prospettiva e un'idea di futuro anche rispetto al tema della transizione energetica ed è chiaro che se tu non hai la prospettiva non hai l'idea di quello che deve essere il mix energetico anche il tema delle tariffe e il tema anche del mercato libero rispetto al mercato tutelato creano condizioni di grossa difficoltà rispetto anche agli utenti e ai clienti che devono insomma soffrire sia in termini di qualità ma anche in termini di costo per quello che riguarda la vita quotidiana Il dialogo c'è nel senso che ci convocano ci convocano con mille associazioni ci fanno parlare tre minuti e poi nei fatti, nei contenuti non riusciamo mai a portare a casa niente che serva per quell'idea di politica industriale Le proposte del sindacato sono quelle che noi io proprio ieri ho fatto un comunicato stampa rispetto al tema del mercato tutelato e del mercato libero dicendo che noi siamo contrari perché nei fatti in altri paesi c'è la libertà di poter scegliere se rimanere sul mercato tutelato o sul mercato libero i rincari in qualche modo sono frutto della speculazione prima della guerra già era cominciato subito dopo la pandemia l'innalzamento delle quote e delle tariffe rispetto alla questione economica con la guerra la situazione è peggiorata ma nei fatti non c'è un sistema chiaro e netto che abbia una visione di paese per poter dare a questo paese un mix energetico che permetta anche di abbattere le quote e le tariffe questo è il tema